Via da Maggio Fischetti, quartiere San Giovanni, in pieno centro storico a Gela. Cumuli di spazzatura fanno una bella mostra di sé e non è un bel vedere. I residenti della zona non ci stanno. Di chi la colpa? Chi ha scambiato un tratto di strada così importante in una vera e propria pattumiera a cielo aperto e scoppia la protesta. Buttano le cose quando ci sono i giorni stabiliti, martedì e sabato. I signori non vogliono tenere nessuna cosa a casa, però le case degli acci non sono un secchio di spazzatura. Anche perché qua siamo in pieno centro storico? Nel centro storico le persone dà una brutta impressione. Noi facciamo di tutti, quelli che abitiamo, curiamo le piante, teniamo pulite. Poi sono questi dello stesso quartiere che qualcuno è indisciplinato e maleducato. Abbiamo speso tanti soldi con la trega per fare questa differenziata, ma le persone non capiscono che comunque l'immontizia non la possono buttare qua. Noi abbiamo un'attività e dobbiamo comunque guardare ogni giorno questo scempio. Tutte le persone che vengono a mangiare devono guardare questa cosa. Non va bene, non si può lavorare più perché sta diventando una situazione insostenibile. Noi da diverso tempo chiediamo alla gente che viene a buttare la spazzatura di evitare, però pertanto se ne fregano. Quindi non sappiamo più cosa fare. Qui tutte le sere è pieno di spazzatura, quindi noi non sappiamo a chi rivolgerci. E noi chiediamo all'amministrazione di prendere provvedimenti per questo discorso qua. Perché noi essendo cittadini, avendo l'attività e paghiamo le tasse, pertanto vogliamo che qualcuno prenda provvedimenti per questo.